Alcuni indizi sui social network non sono passati inosservati ai fan più attenti, sarebbe di nuovo Maretta tra le due star del Trono Over. Passano gli anni ma il rapporto tra Sossio e Ursula di uomini e donne resta complicato. Nonostante l'arrivo della piccola Bianca, che oggi ha quasi tre anni, l'ex calciatore di campioni e l'ex dama del dating show di Maria De Filippi continuano a vivere momenti travagliati, fatti di litigi, discussioni e momentanee separazioni. Nelle ultime ore non sono sfuggiti ai fan più attenti alcuni indizi sui social network tutt'altro che positivi che sembrano testimoniare l'ennesimo addio. Di punto in bianco Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno smesso di seguirsi su Instagram. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha tolto il follo alla parrucchiera pugliese e lo stesso ha fatto la bionda influencer. Ma non è finita qui, l'ultima storia apparsa sull'account di Sossio sembra piuttosto eloquente. Tutto ha un inizio e una fine, ha scritto a corredo di una foto che ritrae una fiamma e che ricorda vagamente il falò di Temptation Island Vip, programma di Canale 5 al quale la coppia ha preso parte nel 2018. Nessun video strano da parte di Ursula Bennardo, che si è limitata a parlare normalmente ai suoi follower, come fa ogni giorno. Dalle gesta quotidiane della piccola bianca i consigli di moda e beauty. Sempre con il sorriso, forse un'arma per nascondere giorni tutt'altro che facili. Solo una settimana fa Sossio Aruta ha postato uno scatto della sua famiglia, definendo compagna e figlia come i suoi grandi amori. Cosa sarà successo questa volta? Litigio momentaneo o rottura definitiva? Non è infatti la prima volta che Sossio e Ursula di uomini e donne vivono momenti di tensione. Si erano già lasciati qualche tempo fa per poi tornare insieme e mettere su famiglia. Dopo la nascita di Bianca e la partecipazione al Grande Fratello Viplennesima Crisi, dovuta principalmente a problemi di incompatibilità caratteriale e vita quotidiana. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!